Signore e signori, si rischia qua di ammazzare un campionato ragazzi, gara neutralizzata praticamente dopo l'errore di Sebastian Vettel Good evening guys, let's talk about la gara del GP di Canada del 2019 ragazzi, prima di iniziare a farlo Mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al nostro canale, oltre che mettere seguite la nostra pagina Instagram Parliamo del Gran Premio 70 giri, è stata una gara attiratissima, però la gara si è decisa La gara si è decisa al giro numero 48, quando Hamilton e Vettel erano divisi da due secondi e mezzo Avete presente il circuito di Montreal? Comunque alla seconda chicane sbaglia Vettel che la taglia direttamente e va sull'erba E nel rientro, diciamo, a causa di un sovrasterzo del pilota tedesco della Ferrari, c'è un rallenta di molto Hamilton Hamilton che a mio avviso non sarebbe potuto comunque passare Però perché questa azione decisiva? Perché questa azione toglie l'azione in quanto danno 5 secondi di penalità a Vettel E Vettel che non aveva il passo di andare a prendere 5 secondi a Hamilton, perché andavano sempre più o meno sugli stessi tempi Perciò Vittoria che va tra virgolette a tavolino a Hamilton, che giustamente nemmeno ci prova a portare un sorpasso Vittoria quindi su strada che è andata a Vettel, ma in realtà è andata a Lewis Hamilton Ottimo terzo posto di Charles Leclerc Ora vi darò comunque un'opinione su questo fatto Ottimo terzo posto per Charles Leclerc A dimostrazione che la Ferrari in questo circuito c'era Quarto posto e giro più veloce della gara per Valtteri Bottas Quinto Verstappen che ricordo partiva undicesimo E Verstappen è l'ultimo pilota ad essere a pieni giri Da Ricciardi in poi che è il sesto Tutti quanti doppiati Per far capire un po' la differenza che c'è fra tutti i vari team Allora parliamo anche un po' degli incidenti Perché Lando Norris si è dovuto ritirare appunto perché ha rotto non so come La sospensione della gomma posteriore destra E gli è stati in principio di incendio E poi si è ritirato Albon non so per quale motivo il corridore della Toro Rosso Adesso parliamo un attimo dell'episodio Perché si vede dalle immagini che comunque Vettel Ha un sotto e un sovrasterzo quando rientra in pista Quindi manco a dire gli taglio la strada così non passa E poi ragazzi diciamoci chiaro Cioè questo campionato già è povero di spettacolo Anche e soprattutto a causa del dominio Mercedes Se tu devi la penalità a Vettel Dai sette punti in più ad Hamilton E ne devi sette a Vettel Questo campionato sta perdendo molto di pepe rispetto a quelli degli altri anni Dove c'era magari un binomio Mercedes-Ferrari Quindi fossi stato in un commissario Un occhicello l'avrei chiuso Ora non so oggettivamente la quale sarebbe stata la decisione giusta Secondo me forse non c'erano gli estremi Anche per come stava andando la gara Anche per lo spettacolo per dare quei 5 secondi Ditemi un po' voi nei commenti che cosa ne pensate di questa penalità E noi ci vediamo a un prossimo video